Siamo in due La tua arte urinaria sopra consigliarti il miglior utilizzo in cucina, non so sicuramente Produzione esclusivamente familiare Normalmente un goccino in una arrabbiata fa la sua bella differenza Qui c'è un altro regalo ancora Ecco, vedete come la questione Noi non sappiamo mai come Cosa fare, come ringraziare Mai Non far caso al valore che può avere questo dono Ho mai fatto caso, c'è neanche un caso Non so sempre di cogliere il significato, ho già capito tutto Che è rappresentato in questi piccoli oggetti 22 maggio 2009, 22 agosto 2009 In questo periodo Tu malgrado hai dovuto combattere su un ring diverso dal palco Per quanto tu ne fossi appassionato e pugilato Su quel ring avresti fatto volontariamente di salire C'è sì, morto Però ho vinto Alla fine ce l'hai fatta E hai portato la tua vita, ho calma E ti sapete di far tenere della tua Per questi guantoni C'era chiuso il simbolo per il quale hai lottato E infine a più ripresa hai vinto il tuo avversario Con un clamoroso cappalossi, l'ho fatto nero Grazie per aver lottato e per essere ancora qui con noi Dio ti benedica sempre da mio Nero nomade Francesco di Filippis Rende Per favore fer saluto la nostra cara amica Antonia Antonia dov'è? C'è? Benevento Grazie Antoni Zanzani Grazie a voi Grazie a voi Momente 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 Questo è lo spirito di Rocky Marciano Che ha detto guarda che sono anch'io Allora io Cosa dire Penso di parlare a nome di tutti Enzi sicuramente così A nome anche di Serafino di Enzi Grazie veramente Grazie di tutto Crediamo di ripartire con calma Di ripartire Io Grazie a tutti Un giorno Poi Poi Una notte di settembre Mi svegliai Per il tuo funere Su il mio corpo Non è Noi 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 Sì, la strada è ancora là, un deserto di salvare la città. Ma un bimbo che ne sa, sempre giuro non vuole essere vera, poi una notte di sattembre, non vuole essere vera, dai, il fuoco di un cammino, non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'è la casa mia, è quello bambino che giocava in un cortile, ma che ne sa, sempre giuro non vuole essere vero, poi una notte di sattembre, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti